Maria Lucia Revisorea Buonasera a tutti. Vorrei partire facendo e ponendovi due domande. alle quali vorrei che voi rispondeste sia adesso sia al termine del mio discorso per capire se effettivamente questo discorso potrebbe essere un cambiamento anche in voi. La prima domanda è Bisogna perdersi per poi ritrovarsi? L'altra domanda è questa Tre semplici oggetti come un'albicocca uno smalto rosso e l'immagine del mare possono queste tre semplici cose cambiare la vita di qualcuno? Provate a rispondere. Ecco, come potete vedere dalla mia prima slide e da quello che è stata la lettura del mio abstract partiamo da questo, dall'essere umani siamo esseri umani che ci evolviamo nel tempo perché? Perché l'ambiente cambia e quindi siamo obbligati a cambiare con esso. L'evoluzione è fatta di periodi di transizione nei quali dobbiamo affrontare delle sfide con noi stessi e in queste sfide dobbiamo perdere una parte di noi per acquisirne una nuova ma allo stesso tempo dobbiamo avere una forte consapevolezza rispetto a quello che noi siamo a quelli che sono i nostri veri valori a quelli che ci definiscono io oggi, nonostante tutto quello che mi è successo, sono rimasta sempre Marina quando mi chiedono tu chi sei? io sono prima di tutto Marina naturalmente queste fasi di cambiamento possono arrivare quando uno o meno se lo aspetta e questo cambiamento implica anche la paura la paura del cambiamento implica uno stress perché? Perché tutto questo ci attiva ci rende più pronti e questo non è un fatto in sé negativo è evoluzionisticamente positivo perché ci rende più pronti questo qui ci prepara al nostro cambiamento ecco, quest'onda quest'onda perché? poi ve lo spiegherò però partiamo da questo i periodi di transizione possono arrivare con eventi che sono e arrivano e possono essere sia positivi che negativi che ci obbligano a cambiare e invece ci sono eventi sia positivi che negativi che invece noi ricerchiamo perché vogliamo un cambiamento nella nostra vita tipo se uno si iscrive all'università lo fa perché vuole cambiare vuole diventare qualcun altro oppure se invece ti capita la morte di qualcuno che a te è vicino oppure la diagnosi di una malattia questi sono eventi che sono drammatici e che cambiano la nostra vita e ci obbligano a cambiare in qualche modo la nostra vita perché vi ho messo quest'onda? quest'onda l'ho messa perché voglio parlarvi della storia di qualcuno che ha spiegato benissimo come affrontare un evento positivo in sé ma che può avere una declinazione sia positiva che negativa e lo fa attraverso quello che è la sua vita il suo sport voglio portarvi l'esempio di Kelly Slater che è uno tra i più grandi famosi surfisti nel mondo e io dico anche una leggenda nello sport e vi do questa testimonianza a partire da un documentario nel quale lui parla del suo più grande sogno che era quello di vincere 5 titoli mondiali consecutivi e parla dell'ultima competizione nel 1998 al Pipe Master alle Hawaii nel quale lui praticamente dopo una stagione un po' fatta di non dico insuccessi ma comunque si aveva perso il divertimento la voglia di fare il suo sport in qualche modo e pensava anche quasi di ritirarsi beh, in quella competizione lui si giocava il suo quinto mondiale il sogno che aveva sempre da piccolo beh, in quel giorno praticamente i suoi due più grandi avversari vanno male sulle onde non riescono a dare il meglio di sé e quindi in quel momento che cosa succede? per lui non c'è un'opportunità lui sa di avere in mano tutto quanto sa che se lui fa bene lui arriverà al suo sogno di una vita e in quel momento invece cosa ha? ha un crollo nervoso non riesce a respirare in quel momento lui che fa? si fa aiutare da un suo amico un surfista a riprendere la concentrazione lo aiuta con esercizi di respirazione con un po' di yoga, no? sono surfisti quindi sono un po' naif però sanno cosa fare il sportivo sa sempre cosa fare ma chiede aiuto nel momento del bisogno beh, in quel momento lui ha ripreso la concentrazione ha ripreso a respirare è entrato in acqua e in quel momento ha trovato quello stato di flow quello stato che tanti sportivi cercano in cui tutto va a rallentatore ma tu hai la piena coscienza del tuo corpo di te stesso sai quello che devi fare e lo fai al meglio e in quel momento che ti passa tutta la vita davanti di quello che hai fatto di tutti i tuoi sforzi della prima volta che magari sei salito o in bicicletta o sulla tavola da surf perché in quel momento c'è la consapevolezza che stai vincendo che ce l'hai fatta bene nello sport questo racchiude un po' tutto no? quello che dovrebbe essere anche un messaggio per noi nella vita di tutti i giorni a volte le cose si decidono in frazioni di secondo in quelle frazioni di secondo dobbiamo compensare far confluire tutte quelle che sono le nostre esperienze passate tutto quello che è stato il nostro sforzo per arrivare fino a quel momento tutto quanto se non riusciamo a fare bene in quel momento le cose cambiano cambiano in modo positivo e lui quel giorno dall'essere un campione è passato ad essere una leggenda dello sport e oggi ha quasi il rasoio di 50 anni vi dico che lui vince ancora bene passiamo però anche a quello che è un evento negativo una drammaticità perché la vita non è fatta solo di grandi campioni vittorie bei eventi alle quali ero abituata anch'io fino a poco tempo fa ma ci sono anche eventi drammatici che ti obbligano a cambiare sono eventi che ti buttano giù nel buio nel buio più profondo sono quei momenti in cui tu senti e sai solamente quello che tu non sei più non sai più definirti per quello che sei né per quello che sarai sei completamente perso e in quel buio profondo ritrovare la capacità di rivedere la luce non è semplice non è facile io non sapevo come fare assolutamente questo evento negativo nella mia vita è arrivato nel 2010 in un caldissimo giorno d'estate in cui una signora mi ha tagliato la strada e non solo in modo figurato ma mi ha tagliato anche le gambe perché da quel giorno non ho camminato infatti oggi sono qui a parlarvi da una carrozzina questo questo evento negativo ha innescato quello che è stato il periodo più difficile della mia vita veramente più buio è stato un periodo in cui ho sperimentato il più grande dolore il dolore psicologico che si fonde col dolore fisico è una cosa difficile da spiegare perché bisogna veramente solamente passarci in questi momenti ho sperimentato quella sensazione di dire ok per me è finita basta basta perché il dolore era grande perché lo sconforto era grande perché sentivo voci intorno a me che dicevano no lei non ce la poterà fare mai è impossibile i medici gli infermieri perché ero sotto forti sedativi e quando ero sotto forti sedativi sentivo tutto questo e lo vivevo come se fosse un inco ad occhi aperti e in quella situazione capì anche che cosa mi era accaduto questo perché perché avevo visto un film Million Dollar Baby di Clint Eastwood che raccontava la storia di questa pugile che aveva che durante l'incontro arrivò purtroppo ad un punto nel quale l'avversaria gli sferrò a tradimento un colpo al collo e da quel giorno lei rimase tetraplecica non poteva né muovere né le braccia né le gambe quindi una situazione anche peggiore della mia ma sapevo che cosa voleva dire una lesione spinale e lei arrivò il film finisce così che lei insieme al suo allenatore decidono di farla finita la aiutano a morire perché lei non ce la poteva fare non aveva una cura io invece ho deciso che non volevo morire ma anzi che volevo vivere e voi vi chiederete sì ok belle parole ma come hai fatto beh preparando questo talk io ci ho pensato moltissimo ho riflettuto molto su questo e ho detto no bisogna che do effettivamente l'idea reale di quello che è accaduto dentro di me quali sono state le cose che effettivamente mi hanno fatto fare quel click cioè dal passare da dire ok basta a dire no io voglio stare qui e ci voglio stare anche bene bene che cosa è stato mentre ero lì in rianimazione ho detto no di là ci sono delle persone che mi vogliono bene in serato aspetto ci sono i miei familiari i miei amici ho il loro supporto stanno pregando per me perché io rimango qui con loro e in più c'era una vocina dentro di me e gli infermieri che parlavano ho detto no e devo ripartire dal piacere delle piccole cose dal mangiare una soccosa albicocca dal rimettermi lo smalto rosso perché me l'hanno messo veramente mentre ero in rianimazione lo smalto l'ho chiesto per darmi un tono un po' di colore per riprendere un po' la mia femminilità e in più rivedere il mio amatissimo mare bene questo era solo l'inizio le piccole cose la base della nuova marina ma io avevo bisogno di qualcosa di più di ricostruire veramente me stessa e questo momento di consapevolezza è arrivato in un giorno in cui ad un convegno sullo sport incontrai una psicoterapeuta che parlò della sua esperienza personale professionale nell'aiuto ai malati oncologici per superare il dolore quel dolore cronico che i farmaci effettivamente non riescono a curare bene ho detto ok c'è qualcosa che io posso fare ma mi serve l'aiuto di qualcuno e così ho trovato una psicologa vicino a casa mia e con lei abbiamo ricostruito un po' quello che doveva essere il mio percorso tramite piccoli obiettivi uno dietro l'altro un piccolo passo alla volta perché è nella nostra routine in quello che noi facciamo ogni giorno che ricostruiamo anche parti della nostra personalità della nostra autostima a piccoli pezzi uno dopo l'altro i miei primi piccoli pezzi quali sono stati? iscrivermi all'esame da missione per l'università cercare una nuova casa dove potessi essere veramente indipendente impegnarmi negli eventi della Marina Romoli Onlus che è la mia fondazione perché all'inizio era stata aperta per me ma io alla fine ho detto no dobbiamo fare qualcosa per gli altri perché vive la mia stessa esperienza ma non ha magari il supporto che ho ricevuto io grazie al mondo dello sport bene tutto questo implica una grande forza un grande coraggio perché il cambiamento come ho detto all'inizio implica perdere una parte di noi implica perdere la sicurezza il comfort dobbiamo superare quella zona di comfort del tutto è sempre stato così tutto ha sempre fatto quel corso lì per essere noi al 100% dobbiamo abbandonare quest'idea di comfort e abbracciare la complessità delle cose anche quando guardiamo qualcuno se è diverso da noi non voltiamo lo sguardo interessiamoci che magari scopriamo veramente qualcosa che non pensavamo nemmeno prima che ci potesse interessare in qualche modo non facciamoci prendere dalla foga di dover rispettare quelle che sono le convenzioni sociali o di prendere una via nella nostra vita che rispetta solamente gli interessi degli altri ma non il nostro che non ci fa essere veramente felici la felicità sta nelle piccole cose non è uno stato nell'essere queste sono delle piccole immagini di quello che è stata la mia ricostruzione fare delle piccole cose in cui mi sono divertita in cui mi sono riappropriata di me stessa fare nuovi sport che non potevo fare prima dell'incidente come fare wakeboard o andare sul zuppo in mezzo al mare e anche i simboli hanno un grandissimo valore nella nostra vita il prima questo è il prima e il dopo la mia cicatrice che è il segno del mio dolore più grande che corre tutto lungo la mia spina dorsale e in sopra che cosa ho voluto fare ho voluto far crescere una rosa piena di spine come le sfide dolorose che ho dovuto passare ma la rosa è sbocciata come volevo che sbocciasse la mia voglia di vivere volevo concludere questo mio discorso con una citazione del drammaturgo Jodorowsky e dirvi che dobbiamo smetterla di definirci e concederci tutte le potenzialità dell'essere perché noi non siamo esseri definiti non siamo forme e solide definiti ma siamo più che altro dei liquidi siamo come l'acqua siamo capaci di fluire di cambiare e in questo momento vi chiedo avete cambiato idea rispetto a quello che erano le domande all'inizio? Sì o no? Bene grazie a tutti avete veramente fatto di me qualcosa di importante perché mi state dando moltissimo perché fare un TED era qualcosa che per me rappresentava molto un sogno grazie a tutti buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti